Il senso di colpa che dovrebbe avere ogni scultore attraverso un'opera capace non solo di occupare lo spazio ma anche di misurare il tempo e spostare l'arte dall'io a noi. Il senso di colpa che dovrebbe avere ogni scultore attraverso un'opera capace non solo di occupare lo spazio attraverso un'opera capace non solo di occupare lo spazio e ora vi darò alcuni pezzi di alluminio e mi piace che vi darvi qualcosa che vuoi. Il senso di colpa è molto morbido, semplice, semplice, semplice. Quindi puoi darvi come se fosse un paper. Sì. Go! Sì. 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 È un liquido molto concentrato. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.